Ministro Di Maio, questa sera il capo dello Stato Mattarella ha detto che l'Europa deve intervenire prima che sia troppo tardi e ha detto anche che l'Unione Europea superi i schemi ormai fuori della realtà. Più chiaro di così non poteva essere. Che cosa succede se nemmeno le parole di Mattarella sbloccheranno questo difficile negoziato con l'Unione Europea? Io credo che nei prossimi giorni tutti i paesi europei, inclusa l'Italia, cercheranno di ottenere il miglior accordo possibile. Perché qui, a differenza di precedenti storici, non c'è in ballo il destino di un solo paese. E qui c'è l'Unione Europea ad un bivio. I principali paesi dell'Unione Europea sono colpiti dalla crisi del coronavirus, che è una crisi sanitaria, ma è una crisi anche economica. E soprattutto, a differenza di tutte le volte in cui in passato si chiedeva all'Europa di intervenire per aiutare l'economia di determinati paesi, questa volta i paesi colpiti non hanno nessuna colpa. Cioè in passato, se ricorda, c'erano paesi europei che dicevano «Voi avete fatto troppo debito, voi avete sbagliato delle decisioni economiche». Questa volta abbiamo una pandemia globale che sta colpendo i principali stati del mondo e ci sono i principali motori economici del mondo che stanno dichiarando il lockdown e quindi stanno bloccando le loro attività produttive, le stanno convertendo in alcuni casi. Lei è fiducioso che si troverà nei prossimi giorni un accordo? Perché il Premier Conte ieri ha detto «do dieci giorni di tempo per battere un colpo». Sarà veramente una trattativa difficile. Siamo di fronte alla trattativa più difficile che il governo italiano e l'Unione Europea abbiano mai affrontato. Però, come vedete, le istituzioni reagiscono in maniera unitaria. Reagiscono unite e il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, ma devo dire anche che la maggior parte delle forze politiche sostengono il fatto che questa sia una fase in cui l'Unione Europea e i suoi Stati devono condividere i rischi oggi per poi condividere le opportunità in passato. Lo voglio dire, l'Eurobond è la condivisione di un rischio di fronte al quale siamo tutti quanti adesso, ma è anche la condivisione di un'opportunità perché possiamo costruire un nuovo futuro per l'Unione Europea, per i suoi Stati e per il suo popolo. Noi vogliamo spendere tutto quello che c'è da spendere per aiutare il popolo italiano e credo che le parole del Presidente Mattarella confermino che la strada è una sola in questo momento e quella strada è quella di poter spendere le risorse che servono per rilanciare la nostra economia, per curare i nostri malati e per aiutare il nostro popolo. Senta, Ministro Di Maio, lei ha detto che tutte le istituzioni, tutti gli attori in campo oggi nel nostro paese sono uniti. Diciamo che l'opposizione con il leader Salvini non ha perso l'occasione oggi per dire delle parole volgari, scurrili, quindi mi scuso ma cito testualmente, Salvini dice battiamo il virus e poi se serve salutiamo l'Europa, a cui dedico un pensiero di schifo e vergogna, andate a cagare. Scusate, ma lei cosa risponde a Salvini? Che io credo che questo sia il momento del coraggio, non delle volgarità, anche perché non è che con questa frase abbiamo risolto il problema dell'Italia o il problema del popolo italiano, né abbiamo superato la crisi del coronavirus, né con queste frasi riusciamo ad ottenere qualcosa in più ai tavoli europei. Però vorrei che si stabilisse un principio. In questi giorni non si sta decidendo il futuro dell'Italia nell'Unione Europea. In questi giorni l'Unione Europea sta affrontando una crisi senza precedenti e sta decidendo il suo destino. Non ho capito perché in questo momento ci sia una parte in Italia che voglia fare il gioco magari di chi non vuole l'Italia nell'Unione Europea. Se ci pensiamo un attimo, qui tutti dovrebbero chiedersi può esistere un'Unione Europea senza l'Italia? Secondo me no. Quindi qui non stiamo parlando di Italia dentro o fuori dall'Unione Europea. Qui stiamo parlando. L'Unione Europea in un momento di difficoltà è in grado di essere lo strumento comune per affrontare i problemi economici e sociali dei suoi popoli, del suo popolo europeo? Può esserlo, ma sarà una trattativa veramente difficile. Paolo Giordano, la interperlo come scrittore, quindi come chi maneggia le parole con cura, con attenzione. Quando Salvini torna al suo linguaggio muscolare, scurrile, pensavamo che col coronavirus quella pagina politica, quel modo di fare politica fosse chiuso e invece no? Lo pensavamo? Non lo pensavamo purtroppo. Ci auguravamo forse che il pudore durasse un po' più a lungo, ma il problema reale è che le parole di Salvini denotano il fatto che continuiamo a non capire e in questo senso perseverare è diabolico, cioè stiamo capendo le cose sempre un po' troppo in ritardo in questa epidemia. Questa è una pandemia, cioè qualcosa, come diceva il Ministro Di Maio, di assolutamente globale. La crisi economica che seguirà sarà altrettanto pandemica e non è pensabile, è votato al fallimento qualunque tentativo di affrontare questo in modo isolato. Può esistere solo la cooperazione. Anche l'Europa è troppo poco. L'Europa non abbiamo neanche scelta. Noi l'Europa la dobbiamo prendere perché non abbiamo scelta in questo momento. ha agito male nei primi passi, ma non abbiamo una reale alternativa perché abbiamo visto cosa se ne fa il virus e cosa se ne fa l'epidemia del nostro chiudere. Quindi, Ministro Di Maio, siamo veramente nelle sue mani in questo caso. Abbiamo bisogno di cooperazione ai massimi livelli. Antonio Padellaro, il Ministro Di Maio dice, e lo ha ripetuto anche prima, che a prescindere dall'Europa l'Italia spenderà comunque tutto quello che è necessario e che serve. Pensi che ci potrà essere anche una patrimoniale? Perché se abbiamo bisogno di finanziare questo sforzo straordinario, si potrebbe ricorrere anche a questo? Ligine, non lo so. Io so soltanto che oggi l'informazione che è in una situazione cruciale deve distinguere tra gli avvelenatori dei pozzi e le notizie che sono convalidate da fatti e da numeri. Allora, io vedo da giornalista intorno a me molti avvelenatori di pozzi che cercano di confondere le idee anche al Paese, come se non bastasse quello che sta succedendo, e penso che se l'informazione non ritrova tutta una credibilità rispetto alle cose che accadono, ai numeri, ai fatti, finiremo per doverci affidare soltanto ai comunicati ufficiali del Governo, perché un po' questo è il destino di un'informazione che perde credibilità. Se mi permetti, rispetto a Salvini, visto che lui è un uomo devoto, che si mostra sempre con il rosario in mano, vorrei dirgli che poco fa Papa Francesco, in una bellissima omelia davanti a una piazza San Pietro deserta, ha detto tra l'altro una frase, che dovremmo un po' tutti meditare, ha detto che nessuno si salva da solo. Ecco, Salvini, al di là delle sue volgarità, dovrebbe meditare molto questa frase, nessuno si salva da solo. Ministro Di Maio, intanto le chiedo se esclude una patrimoniale, poi le vorrei anche chiedere una domanda che vorrebbero farle tanti italiani da casa, tutti quelli che hanno parenti, amici, figli, fratelli, sorelle che sono all'estero e che stanno cercando di ritornare nel nostro paese. Per loro che cosa state facendo e con quale tempistica? Escludo assolutamente la patrimoniale per una semplice ragione. Ai cittadini italiani e al nostro popolo bisogna dare la soluzione, non chiedere la soluzione. Se tu applichi, aggredendo il patrimonio, una patrimoniale, stai chiedendo a loro la soluzione. In questo momento il nostro obiettivo è dargli tranquillità, ringraziare tutti coloro che stanno rispettando le regole, restando a casa, punire quelli che non le stanno rispettando. Per quanto riguarda i cittadini invece che sono all'estero, io vorrei dare dei numeri che aiutano a comprendere. Noi all'estero abbiamo 5 milioni di persone col passaporto italiano. Queste si dividono in persone residenti all'estero, quindi persone che pagano le tasse in altri stati da anni e quindi contribuiscono alla sanità, all'economia di altri stati e i non residenti all'estero. Ora, nelle ultime settimane abbiamo fatto rientrare migliaia di studenti Erasmus, di turisti e di cittadini che lavoravano all'estero ma erano residenti in Italia, ma con delle precauzioni che dobbiamo continuare a prendere. Cioè, chi risulta positivo non possiamo metterlo su un aereo e farlo venire qui. E allo stesso modo, se la temperatura è alta, ieri sera è successa a Barcellona mentre degli studenti si imbarcavano sulla nave per l'Italia, se risulti con la temperatura alta, il principio di precauzione è non farti imbarcare. Quello che posso dire è che noi aiuteremo i cittadini italiani in difficoltà a rientrare come abbiamo fatto in queste settimane, ma ai residenti è molto più opportuno che restino lì. E ovviamente se ci sono delle persone positive è bene che restino lì. Mi permetta di dire un'altra cosa, in questi giorni io penso che la maggior parte dei cittadini all'estero che ci ha chiesto aiuto fossero in buona fede. Poi c'è stato qualcuno che ha deciso di andarsi a fare un safari il 10 marzo e si è fatto il suo safari e poi rientrando si è lamentato che non lo rimpatriavamo in tempi utili e non facevamo rientrare anche la sua jeep o la sua moto. Ecco, in questi casi per fortuna ringrazio il mio staff che non mi ci ha fatto parlare direttamente perché avrei saputo cosa dirgli. E quindi insomma ci sono da fare alcune distinzioni. Senta, Ministro Di Maio, prima di tornare ancora sulle questioni internazionali le voglio proprio interpellare come Ministro del governo Conte di questo governo che si trova a gestire un'emergenza che non abbiamo conosciuto negli ultimi cent'anni in questi termini. Siccome è abbastanza chiaro ormai che non eravamo pronti per questa pandemia, non eravamo pronti su nessun fronte, non eravamo pronti sulle attrezzature per gli ospedali, sulle mascherine, sui respiratori, sui tamponi, eccetera, eccetera. Perché non vi siete mobilitati subito? Le ricordo anche che la percentuale di contagiati tra gli operatori sanitari è quasi del 10% e oggi i medici che sono morti in servizio sono oltre 50. Quindi c'è qualche cosa, come diceva ieri Fontana, se lo chiedeva che vi è sfuggito. Che cosa state facendo? Perché oggi nella conferenza stampa tradizionale della protezione civile abbiamo visto il commissario straordinario Arcuri che non è che ci abbia chiarito molto le idee, per esempio sulle mascherine, visto che proprio Arcuri ha detto che il sistema di distribuzione si è inceppato di distribuzione delle mascherine. Ci può dire qualche parola chiara, netta, che faccia capire agli italiani a che punto siamo, a che punto stiamo, visto che tutti gli operatori sanitari denunciano che non ci sono abbastanza attrezzature con tutto l'annesso e il connesso, a cominciare dai tamponi e dalle mascherine? La prima cosa che posso dire è che nell'ultimo mese le due più grandi fabbriche di automobili al mondo, la BID cinese e la General Motors statunitense, hanno ricevuto la richiesta dal governo di convertire la loro produzione da automobili in mascherine. Perché? Perché nessuno nel mondo aveva mai previsto una pandemia del genere. Ora, io non voglio mettere le mani avanti, però è chiaro che chi è pronto ad affrontare una pandemia ha investito la maggior parte delle proprie risorse nella sanità negli ultimi vent'anni e quel Paese non siamo noi. Questo ce lo possiamo dire senza polemiche. A questo però si aggiunge una cosa importante. Vorrei dare un numero per far capire di che cosa stiamo parlando nell'emergenza italiana. Noi abbiamo sottoscritto una settimana fa un contratto da 100 milioni di mascherine al mese per l'Italia e oggi ho avuto notizia della sottoscrizione di un altro contratto da altre 80 milioni di mascherine al mese. Ma sono i contratti con i cinesi? 60 milioni di mascherine al mese per l'Italia Sì, sì, sì. Sì, ma quando lei ha detto che avete... Mi scusi, la interrompo solo per capire. Avete detto che avete firmato questo contratto con la Cina e arriveranno quando? E poi se arrivano e si bloccano, non sappiamo bene dove, non vengono distribuite alle regioni che poi le danno a chi di dovere, come ha detto Arcuri, non servono a niente. No, io non stavo mettendo le mani avanti. Voglio dirle che nell'ultima settimana sono già arrivate 10 milioni di mascherine in Italia. Da lunedì arriveranno 20 milioni di mascherine a settimana e quindi cominciamo ad andare a regime. Ora, io non faccio assolutamente... Io faccio rappresentante del governo, quindi parlo per tutto il governo. Come ministro degli esteri mi sono occupato di reperire i contratti, far arrivare le mascherine a toccare terra in Italia. Poi c'è la distribuzione. Oggi avete sentito il commissario Arcuri che diceva che d'ora in poi quando a Malpensa e a Fiumicino arrivano, o a pratica di mare, arrivano gli aerei dell'aeronautica militare con le mascherine, gli elicotteri dell'esercito, e ringrazio il ministro Guerini per aver dato l'ok, li porteranno direttamente nelle regioni. Perché? Perché la distribuzione deve accelerare. Però quando arriva la notizia, come nelle ultime settimane, che sono arrivate 8 milioni di mascherine in un giorno, come ieri, dobbiamo sempre pensare che questo è un paese dal fabbisogno di 100 milioni di mascherine al mese per affrontare questa emergenza. Io credo che nessuno, nella nostra storia, abbia mai pensato di dover acquistare 100 milioni di mascherine al mese per l'Italia. Ora però vi posso dire anche che con il sistema dell'esercito, con i contratti firmati e gli aiuti che sono arrivati anche dagli Stati Uniti, dai paesi europei, anche dalla Russia e dalla Cina, noi riusciamo a garantire, nelle prossime settimane, al personale medico-sanitario il materiale che serve. Io sono un ministro a servizio dei nostri medici, dei nostri infermieri, dei nostri operatori sociosanitari. Abbiamo lavorato nelle ultime settimane per firmare i contratti in tutto il mondo e far arrivare il materiale che serve. Sta arrivando, lo distribuiremo con gli ericotteri dell'esercito, però nelle ultime settimane, ed è notizia pubblica, sono arrivati tanti materiali e ovviamente abbiamo dovuto dare la priorità a medici e infermieri di Bergamo, saluto i cittadini di Bergamo, le istituzioni di Bergamo, della Lombardia, del nord dell'Emilia Romagna, che sono in enorme difficoltà in questo momento. Antonio Padellaro, è tutto chiaro? Adesso il ministro Di Maio alcune cose le ha chiarite. Penso che l'attenuante sia quella che è stata detta all'inizio, che effettivamente credo che tutto il mondo sia stato preso in contropiede di sorpresa da quello che è successo. e credo anche che in questo caso la differenza di efficienza tra i paesi non democratici, vedi la Cina, e i paesi democratici si nota, perché le democrazie hanno per forza tempi e lungaggini e anche forse burocrazia inutile, in qualche caso inevitabili. Io però penso questo, che il processo a quello che non è andato bene lo faremo quando tutto questo sarà terminato. L'importante, mi rivolgo al ministro Di Maio, è che in questa fase, che è una fase delicatissima, perché non sappiamo ancora quando usciremo dall'occhio del ciclone, il ciclone sarà ancora lungo, è che in questa fase il governo accompagni tutto quello che avviene dalle analisi sull'andamento del virus agli interventi pratici che vengono fatti, lo accompagni con una comunicazione che deve accompagnare il paese, perché il paese dopo 20 giorni di isolamento, non sottovalutiamo questo aspetto, ha bisogno di un sostegno maggiore, perché all'inizio tutti quanti abbiamo detto ce la faremo, e il paese ha dimostrato di avere energie sufficienti per farcela, ma più passano i giorni, più questa presenza di chi decide e di chi spiega e di chi chiarisce è fondamentale. Ministro Di Maio, è importantissimo questo punto della comunicazione che in una fase come questa significa, come dice giustamente Padellaro, accompagnare le cittadine e cittadini attraverso un'emergenza, una fase così difficile. Pensate di cambiare qualche cosa? Magari ci mettete anche qualche volto femminile competente, vi aiuterebbe, questo è un piccolo consiglio disinteressato. e questa è la prima domanda che le faccio se cambierete qualcosa nella vostra comunicazione e la seconda, se pensate di prolungare le restrizioni, perché sappiamo che ora ufficialmente vanno fino al 3 aprile, ma a detta di tutti gli esperti il 3 aprile non sarà finita nessuna emergenza, ci sono tanti paesi nell'Europa e non solo che hanno già annunciato che prolungheranno, anche noi dovremo prolungare le restrizioni? Guardi, io su questo le posso dire che la miglior comunicazione, sono d'accordissimo con il direttore Padellaro sul fatto che la miglior comunicazione che ci possa essere per i cittadini è quella che spiega i fatti e su questo sempre di più, a mio parere, devono intervenire attraverso i media che oggi svolgono un ruolo fondamentale per parlare all'opinione pubblica, non solo i rappresentanti politici, ma anche tutto il mondo della scienza, perché tutta la comunità scientifica, anche la conferenza stampa di oggi che hanno fatto coloro che appartengono all'Istituto Superiore di Sanità, i nostri scienziati, che hanno spiegato l'andamento epidemiologico di questa pandemia, è molto importante per spiegare ai cittadini quali sono i fattori in campo e come leggere quei numeri che ogni giorno sembrano sempre più numeri ma invece sono vite, sono i cittadini, sono i nostri connazionali. Su questo credo che sia molto importante sempre affidarsi agli scienziati, anche sulle misure. Noi abbiamo sempre seguito la comunità scientifica sul decidere se chiudere un'area o non chiudere un'area. Abbiamo sempre chiesto prima di tutto a loro se si dovessero applicare delle determinate regole. Poi ci possono essere delle forme di comunicazione che magari si possono mettere in pratica meglio. Sono d'accordissimo, però ricordatevi sempre che quando c'è stata la fuga di notizie sul primo DPCM che chiudeva la Lombardia, quella fuga di notizie poi nei giorni successivi magari ci ha portato a comunicare di più, ad anticipare le notizie, perché non volevamo che ci fossero fughe di notizie non vere che poi creano nella popolazione degli effetti psicologici come quello dei cittadini del Nord che in parte sono andati verso il Sud, coloro che tornavano al Sud e sono andati in alcuni casi a contagiare le loro famiglie, i loro nonni, i loro genitori. È sicuramente una situazione nella quale, se possiamo dirci in conclusione, non esiste nessun manuale da nessuna parte del mondo. Il manuale di lockdown, di chiusura totale di un paese, non esiste da nessuna parte, non si studia da nessuna parte e tutte le critiche sono ben accette se costruttive ci aiutano a migliorare il nostro modo di lavorare. E le restrizioni verranno prolungate oltre il 3 aprile? Su questo ci affideremo nei prossimi giorni alla comunità scientifica, ma verosimilmente non credo che... Quanto manca il 3 aprile? 4-5 giorni? 6 giorni? Una settimana? Verosimilmente tra 6 giorni non possiamo dire alla gente tornate in piazza e abbracciatevi e baciatevi. Quindi verranno prolungate. È chiaro ed evidente che siamo in un momento. Vedremo con i nostri scienziati, la nostra comunità scientifica che cosa ci dirà. Che cosa vi consiglieranno. Paolo Giordano, vedevo che scuoteva la testa mentre parlava adesso di Maio. Sì, perché adesso diamo tutti la parola agli scienziati. Gli scienziati andavano ascoltati ieri. Non è del tutto vero che non c'era alcun manuale di tutto questo. Le epidemie, le pandemie ci sono sempre state. Esistono dei protocolli. C'è stato pochissimo ascolto nelle prime settimane. Questa non vuole essere una polemica non costruttiva. Vuole essere una polemica esattamente costruttiva. La scienza andava ascoltata non ieri a gennaio. Andava ascoltata in tutti gli anni scorsi in cui è stata pesantemente bistrattata da molti governi di questo paese. E credo che questo sia quello che dovremmo portarci veramente a casa a lungo termine. Che abbiamo bisogno di ricerca. Abbiamo bisogno di investimenti sulla ricerca. Abbiamo bisogno di non destituire le competenze. Come abbiamo fatto anche nel linguaggio. e come devo dire ha fatto anche il Movimento 5 Stelle in modo piuttosto massiccio negli ultimi anni. Tutta questa impreparazione scientifica un po' un po' la stiamo pagando. L'Italia per qualche ragione si è trovata nel futuro di questa epidemia. Nel futuro rispetto a molti altri paesi. siamo una settimana due settimane avanti a molti altri che adesso stanno recuperando il vantaggio. Però per una volta dovremmo essere all'altezza di questa nostra posizione e questa posizione può essere gestita al meglio solo se la scienza viene ascoltata veramente con chiarezza ma se verrà fatto anche dopo perché riaccadrà. Chiuso questo smetteremo di ascoltare gli scienziati vedremo quali saranno gli stanziamenti per la ricerca una volta che l'emergenza sarà passata. Diritto di replica Ministro Di Maio? Beh che sicuramente si debba investire e si dovesse investire molto di più nei nostri ricercatori nella nostra sanità anche nella cultura delle istituzioni che ascolta gli scienziati l'accademia questo è giustissimo e lo dico da cittadino anche da giovane cittadino di questo paese che nel giro di una generazione ha vissuto la crisi del 2008 e adesso inizia la crisi del 2020 la nostra è una generazione che paga lo smantellamento del welfare state e paga anche il fatto che le migliori menti di questo paese in alcuni casi sono andate all'estero se ne sono andate poi sicuramente ci sarà il momento in cui si analizzeranno anche alcune scelte degli ultimi anni sono d'accordo la cosa che però tengo a dire è che dopo Wuhan noi siamo stati il primo paese al mondo a fare il lockdown di 10 comuni dell'Odigiano quando è scoppiata il primo focolaio quello di Codogno e allora tutti ci dicevano che stavamo esagerando da tutta Europa e adesso si parla di un modello Italia che applicano gli altri primi ministri o capi di Stato nei propri paesi Ministro Di Maio ho una domanda ancora sull'Europa e una sull'Italia comincio da casa nostra in molti invocano un governo di unità nazionale Salvini ne sarebbe entusiasta pensa che sarebbe meglio averlo formarlo un governo di unità nazionale lo pensa possibile e noi l'Italia il governo del Premier Conte ricorrerà al MES al Fondo Salva Stati europeo perché pare che voi dei 5 Stelle abbiate detto a Conte l'altro giorno se noi ricorriamo al MES a quel punto usciamo dalla compagine governativa guardi per quanto riguarda la prima domanda per l'idea di un altro governo le posso assicurare dalla mia visuale privilegiata e ho l'onore di servire questo paese da ministro degli esteri che in nessuna parte del mondo in piena pandemia qualcuno sta provando a buttare giù il governo solo in Italia succedono queste cose e mi dispiace che ci stiamo guadagnando questo primato perché gli italiani non lo meritano e in questo momento l'unità nazionale non la può costituire una persona che si mette al posto di un'altra l'unità nazionale la si costruisce con gli atteggiamenti se non si diffondono fake news come il video che ho visto apparire sulle pagine dei leader dell'opposizione qualche giorno fa sul virus cinese creato in laboratorio se in questo momento non si chiama criminale il presidente del consiglio mentre stiamo affrontando questa crisi così si costruisce l'unità nazionale secondo me non con un premier al posto di un altro l'altra cosa invece è importante che io smentisco il fatto di aver detto al presidente Conte in questi giorni se usi il MES ce ne andiamo dal governo perché contraddirebbe il discorso che ho appena fatto l'unica cosa su cui siamo d'accordo tutti nel senso riguardo al MES è che non si può affrontare questa situazione attuale con uno strumento del passato e mi fa piacere io poi ho ascoltato il presidente della Repubblica però non voglio assolutamente tirarlo per la giacca ma mi pare che anche lui abbia fatto un passaggio sul fatto che servono strumenti nuovi per affrontare la crisi attuale a livello economico non strumenti del passato che poi dal mio punto di vista politico sulla Grecia non è che abbiano ottenuto questi grandi risultati dal punto di vista della serenità dei cittadini greci e della qualità della vita della popolazione greca Senta Ministro Di Maio rapidissimamente siccome Paolo Giordano ha scritto questa sorta di instant book che è pubblicato da Inaudi ma viene distribuito dal Corriere della Sera che si intitola Nel contagio e teme Giordano lo scrive che la paura passi senza lasciarsi dietro un cambiamento come cambierà lei e il suo movimento il Movimento 5 Stelle che doveva fare grandi rivoluzioni che l'abbiamo lasciata che si era appena dimesso da capo dei 5 Stelle adesso naturalmente è tutto in un altro ordine ed è tutto cambiato come cambierà lei e il suo movimento dopo questa crisi? La cosa che condivido pienamente ringraziandolo anche di intervenire in questa trasmissione con Giordano è il concetto che la più grande paura è che nessuno impari nulla da questa storia cioè noi dobbiamo portarci con noi un bagaglio di consapevolezze dopo la crisi che stiamo attraversando la pandemia che stiamo vivendo Lei cosa sta imparando? Io poi non sono in grado di prevedere il futuro però le posso dire che le posso assicurare che in questi giorni e in questi particolari momenti di grande difficoltà si capiscono le cose essenziali uno Stato un governo deve lavorare col massimo della responsabilità a difendere la vita che è la cosa più importante noi in passato la vita la qualità della nostra vita a volte l'abbiamo messa da parte per come nazioni investire su settori che a volte danneggiavano addirittura la nostra vita la vita è il concetto da riscoprire secondo me e per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle le posso assicurare e credo condividerà con me che tutte le questioni dei partiti italiani sembrano così piccole rispetto a tutto quello che sta succedendo adesso nel mondo e credo che sicuramente ci sarà una maggiore consapevolezza delle cose importanti in cui investire e questo quello che ha imparato per sé anche lei personalmente beh guardi vedere l'esercito che porta via le bare dei nostri concittadini perché non c'è più posto dove metterle a Bergamo è qualcosa che non dimenticherai mai nella tua vita soprattutto se sei al governo e devi fare in modo che quelle barre diminuiscano il più possibile nel minor tempo possibile ecco il ministro Di Maio questa sera qui da noi ha ribadito che il governo italiano spenderà tutto quello che è necessario al nostro paese e sono parole importanti perché le conseguenze l'impatto sulla nostra economia del coronavirus è pesantissimo ce lo spiega bene Paolo Pagliaro con il suo punto nell'ipotesi più realistica il pilo italiano cadrà quest'anno di oltre il 10% questo vuol dire che lo Stato dovrà mobilitare subito risorse tre o quattro volte maggiori a quelle già messe in campo lo scrivono sette economisti della Lewis in una lettera in cui provano a immaginare in che modo l'economia italiana possa superare l'emergenza sanitaria per uscirne trasformata i sette sono Carlo Bastasin Lorenzo Binismaghi Marcello Messori Stefano Micossi Piercarlo Padoan Franco Passacantando e Gianni Toniolo gli economisti mettono in dubbio l'efficacia degli interventi promessi che si legge devono poter raggiungere famiglie lavoratori e imprese rapidamente senza trovare ostacoli incomplete procedure d'accesso viene poi giudicato del tutto insufficiente il previsto incremento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese nella crisi attuale le garanzie svolgono un ruolo cruciale non solo per mantenere il sostegno di liquidità a tutte le imprese e alle partite IVA ma anche per assicurare l'afflusso delle risorse rese disponibili dalla BCE a tassi largamente negativi occorre portare rapidamente al 90% la quota di credito garantita dallo Stato si tratta di mantenere in vita centinaia di migliaia di imprese anche estendendo la sospensione degli adempimenti tributari e contributivi oggi sottoposta a limiti dimensionali delle aziende che i sette giudicano incomprensibili l'annunciato acquisto di titoli pubblici da parte della BCE è tale secondo gli economisti da compensare con larghezza il maggior disavanzo i sette sono favorevoli a utilizzare anche il credito del meccanismo europeo di stabilità purché le condizioni di politica economica per il prestito si limitino al buon impiego delle risorse per fronteggiare l'emergenza sanitaria un obiettivo raggiungibile e una richiesta accettabile grazie siamo arrivati alla fine della nostra puntata ministro Di Maio grazie di essere stato con noi e buon lavoro grazie Antonio Padellaro grazie a tutti grazie a tutti